Non è facile, perché è una cosa del 71, è scaduta nel 71, da allora c'era ancora scritta fino al 2002, sulle lire c'era scritta ancora, quindi non è che, addirittura nelle ultime emissioni dei biglietti di Stato del 72-73, delle 500 lire, c'era scritta la Repubblica italiana e c'era scritto il biglietto di Stato e quello non era manco emesso dalla Banca d'Italia, che era del Ministero del Tesoro, quindi era comunque Stato, ma era emesso direttamente sul mandato della Banca d'Italia dal poligrafico dello Stato e lo stampava come un biglietto di Stato, che è stato il motivo principio per cui hanno ammazzato Moro, perché Moro, oltre a voler fare, diciamo, le convergenze parallele o, adesso non mi ricordo che voleva fare così, ma esattamente, il compromesso storico, il compromesso storico che aveva una, diciamo, visione assolutamente solare, come lui era un democratico sociale da sempre e che avrebbe portato poi l'Italia ad emanciparsi direttamente, diciamo, dai tentativi di inclusione delle grandi banche internazionali, no? Perché voleva, diciamo, ritirarsi dentro al castello. E quindi, insomma, e lui poi gli hanno fatto fare qualche anno dopo la fine che ha fatto, insomma. Quindi, diciamo, il progetto messo in atto di, diciamo, di far diventare sempre più volatili e alle operatorie. Il denaro è una cosa che è nella mente di questa gente qua. Perché? Perché una volta che tu il denaro non ce l'hai manco più fisicamente, tant'è che stanno spingendo da anni, fare delle carte, direi, io stasera ho l'indicato con una strozza in banca, sì, in banca, in farmacia, ah, ma fatto meglio sono la bancaria. Ah, complimenti, complimenti, hai capito tutto nel tuo mestiere. E che io ve lo dico? Cioè, questo è veramente, c'è, cioè, voler controllare le pulsioni della gente attraverso la moneta, attraverso il controllo fiscale, continuo e giornaliero, voler indirizzare dall'altra parte i consumi, voler cercare di coinvolgere nelle cose più assurde la, diciamo, moda del momento a cui si devono tutti adeguare. È tutto un complesso di azioni messe in atto per il controllo e la schiarizzazione delle persone. Quindi, la forma principale di emancipazione sociale è quando uno ha la possibilità di fare quello che vuole. È in una società strutturale, quanto e come e dove puoi fare quello che vuole. Lo puoi fare solo se c'hai del denaro tuo, non del denaro che qualcuno deve essere a strozzo, perché se no, adesso si deve sconare mia figlia e stiamo facendo i salti mortali per riuscire a fare cose fatte bene. Non so se è chiaro il concetto. Le nozze con i figli non si possono fare, si diceva una volta, no? È chiaro. Perché? Perché se non c'hai soldi, non sei libero, non c'è una cosa così difficile e complicata come la nostra. Se non c'è la possibilità, come dicevo prima, di negoziare, perché tutto è in vendita. Mentre una volta i contadini si scambiavano le ore di lavoro con l'uno con l'altro, non c'era bisogno di denaro, perché era una società semplice. Oggi abbiamo settorializzato in maniera schifosa, in maniera demenziale, le competenze, dove ormai uno sa fare solo quella cosa lì e basta, e se vuole fare un'altra cosa. Io invece sono un analgico, io so fare tutto. Teoricamente si fa anche una bomba atomica. Su se, eh? Quindi, volendo potrei fare una bomba atomica. Cioè, domani un bombato non fu ormai lo so. Tu lo sai, no? Ecco, io lo sai. Non è capito per scherzo. Capito? Io potrei teoricamente fare un bomba atomico, ovviamente. E plutonio. E plutonio. Mi serve almeno un chilo, mezzo chilo, mezzo chilo di plutonio. Basta quello. Sì, ma c'è una bella bombetta. C'è un posto, una bella bombetta che ammazza 300.000 persone volendo, insomma. Quindi, se uno vuole le cose che si possono fare, ma ci vogliono competenze. Oggi le competenze sono oramai talmente settorializzate, splittate, per cui ognuno fa quella demigiana cosa e sta fare malamente quella cosa lì. Invece, un uomo è un uomo quando è libero anche nelle sue azioni. A me mi si rompe la macchina di strada. Io l'ho arrivata. Capito? Magari la notte no, perché fa buio, non ci vedo. Ma la mattina poi la metto a posto. Capito? Quindi questo voglio dire. Non perché io sono bravo e mi faccio autoreferenziale, ma perché bisognerebbe di cercare di ricondurre tutte le persone ad essere in senso olistico, nel senso che vedono e capiscono anche le competenze degli altri dall'interno, non dall'esterno, dall'interno, perché solo se tu hai passato una grave malattia, voglio dire, la sofferenza che c'è in quella malattia, perché non esistono parole per descrivere le sensazioni. Le sensazioni si descrivono con parole che però non descrivono l'entità, il volume, la dimensione, la forza di quella sensazione. È chiaro? E quindi lo senso vale, quindi per tornare alla cambiare, la cambiare ha una cosa importante, che è data sulla fiducia, come poi anche la moneta è data sulla fiducia, ma derivante dalla tradizione che sapeva inizialmente sulla cambiare. E le cambiare oggi, ecco che arriviamo al dunque, riassumono in serie, cambiare al quadri, tutti gli elementi fondati a partire dal 1204, quando è stata, diciamo, fatta la prima cambiare ufficialmente nel periodo storico attuale, no? Perché i cambiari esistevano anche prima. Comunque, insomma, il discorso è che c'è questo strumento che è stato volutamente, volutamente, messo alla berlina esattamente come hanno fatto con Berlusconi, esattamente, hanno creato il nemico, hanno creato il demonio, il satana, il satana, l'hanno creato sempre loro, il concetto di satana, l'hanno creato sempre quelli, gli stessi, è meglio non dire il nome perché sennò dopo dimagano pure in galera, non so se... cioè siamo arrivati al punto in cui uno stato di diritto nazionale fa una legge per difendere gli interessi di un'altra nazione. Cioè noi e la Francia fermiamo due leggi che servono a difendere i cittadini di un'altra nazione. A svantaggio nostro, che se tu dici determinate cose ti denunciano e sei il passibile di due anni della carriera. Penso la Germania? No, no, sì, la Germania. Diciamo Germania. Capito? Siamo a questo punto. Dico così perché stiamo riprendendo, ma chi ascolta ha capito perfettamente insomma. Allora, quindi dobbiamo tornare a quei contativi che si facevano lo scambio in fiducia. Dobbiamo tornare al cercare di credere nelle persone e una delle cose che può benissimo rappresentare questa fiducia nelle persone è la cambiare. Perché dentro di sé c'è il contenuto è l'essenza di tutti quei valori che noi abbiamo perso. Cioè la fiducia negli altri è poi la progressione del credere nelle capacità dell'altro. Perché? Perché finalmente già Keynes nel 32-34 insomma incominciava a dire che, no che dico nel 42, nel 42, nel 42 e poi dopo, vabbè, che quello che conta, non solo lui, lo diceva anche Bruton nel 1832, non è il valore in sé, ma la origine, la fonte di quel valore. Allora, la fonte del valore, fino a che esisteva la moneta metallica, metallo prezioso, in argento, in oro, quello che era, era la moneta stessa che era controvalore del valore che io compravo. Di qua c'era il frigorifero, di qua c'erano, che ne so, 100 dollari d'argento.